Sentire, assaporare, gustare. Il piacere del cibo è un'arte e una tradizione. Ma cosa succede quando aumentano le richieste dei consumatori? Current racconta in quattro speciali i retroscena dell'industria alimentare. Tra pesticidi additivi, i cicli di produzione al limite della legalità. L'industria del cibo, il vino. Tra polveri magiche e solfiti tossici. Da mercoledì 1 settembre alle 21.10 su Current.